Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, lo so non sono le 14 precise ma sono giustificato dal fatto che la mia parodia è appena andata in onda su Radio DJ, sono felicissimo, mi avevano detto che sarebbe andata in onda dopo le 13.30 e quindi ero lì che volevo registrare questo video ma al tempo stesso volevo sentire in diretta il passaggio della parodia e quindi mi sono preso qualche minuto in più per questo motivo qua. Detto questo ragazzi, il primo vlog che faccio da campione d'Italia, ho fatto il post partita sicuramente, però questo è il primo vlog a mente lucida dove appunto ho il tricolore sul petto, ancora non c'è sulla maglia, però insomma sono lì che stanno cucendo tutti gli scudetti per le maglie del prossimo anno. A proposito di maglie ragazzi, ora mi sposto un po' più in su, vi ricordo che questa maglia celebrativa del Milan, 19 campioni d'Italia, è disponibile sul mio store, quindi vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla ragazzi. Mi raccomando è un modo per sostenere il canale ed è un modo per avere una maglia strafiga come ricordo, sappiate ragazzi che gli scudetti non arrivano proprio tutti gli anni, quindi secondo me è bello avere un ricordo di questa annata memorabile. Ultima cosa prima di iniziare con la reaction alla prediction, non l'ho scritto nel titolo ma ancora non l'avevo detto che oggi si parla di questo, vi ricordo anche di sostenermi, vedete sono crollato giù, con il grazie mi raccomando è un altro modo per sostenere questo canale. Ora risalgo su, eccomi qua, io ragazzi ho la schermata della mia prediction aperta, la schermata della classifica effettiva e vi dico che sono imbarazzato, una roba, ragazzi non ci ho azzeccato un cazzo ma c'è una roba incredibile che è successa, c'è una roba incredibile che è successa e tra poco ve la dirò. Iniziamo, allora per quanto riguarda la zona retrocessione al ventesimo posto avevo messo la salernitana, specificando nel video della prediction che non ci azzecco mai, tant'è che ragazzi amici amici della salernitana sappiate che se vi ho messo ultimo c'è qualche possibilità che vi salviate e quindi così è stato e quindi sono contento di aver portato bene alla salernitana. Quindi io ho messo la salernitana mentre in ultima posizione effettivamente c'è stato il venezia anche se fino a 5-6 partite alla fine del campionato l'avevo azzeccata la salernitana, poi fortunatamente per loro hanno avuto questa scesa incredibile e si sono salvati. Quindi l'ultima posizione l'ho steccata ragazzi. Diciannovesima posizione io avevo messo il venezia che invece è andata ultima mentre al diciannovesimo posto c'è il genua quindi ho steccato anche questa o meglio ho azzeccato che il venezia va in serie b ma ho steccato la posizione quindi non conto un cazzo. Diciottesima posizione io ho messo lo spezia mentre c'è andato il Cagliari altronde ragazzi Genoa e Cagliari grandi sorprese in negativo eh sfido sfido a vedere qualche prediction di qualcuno che abbia messo effettivamente Cagliari e Genoa ultimi in classifica. Forse Genoa tanto quanto qualcuno può anche averlo messo ma il Cagliari secondo me con la squadra che aveva è veramente incredibile che sia in quella posizione. Cosa molto importante ve la dirò dopo ve la dirò vabbè ve la dico adesso e poi ve la ricordo dopo. Questo video questo video io l'ho fatto a mercata ancora in corso ora non ricordo esattamente se pazientate un attimo ragazzi io lo cerco subito perché sono curioso di sapere quando ho fatto questo video. Perché fa la differenza ovviamente ricordo che Ronaldo era ancora alla Juventus se non erro quando ho fatto il video e quindi capite che gli equilibri erano un po' diverso. Resta il fatto ragazzi che li ho praticamente cannate tutte quasi quasi tutte ora ora capita anche il motivo e quindi non ho assolutamente alibi. Perché sul video non c'è scritto quando è stato caricato? Vediamo niente non trovo la data di upload del vabbè vabbè niente comunque poco cambia. Diciamo che non l'ho fatto sicuramente a mercato finito ma era ancora in corso il mercato. Va bene passiamo adesso alla posizione quindi delle tre che scendono ne è azzeccata solo una solo il Venezia le altre steccate completamente. Posizione 17 c'è finita la Salernitana effettivamente con un recupero incredibile io ci ho messo l'Empoli ragazzi ci ho messo l'Empoli che invece si è piazzato molto meglio in classifica. Al sedicesimo posto io ci ho messo l'Udinese anche in questo caso si è piazzato molto meglio l'Udinese mentre c'è finita effettivamente l'Ospezia che io avevo messo tra le squadre retrocesse. Al quindicesimo posto io ho messo il Genua ho dato fiducia al Genua di Crescito mentre c'è finita la Samp per un gioco del destino ironia della sorte. C'è finita la Sampa mentre il Genua è effettivamente ufficialmente in sede B. Al quattordicesimo posto ci ho messo il Verona e anche qui il Verona è andato molto meglio rispetto alla mia prediction mentre al quattordicesimo posto nella realtà c'è l'Empoli di Pinamonti, Cutrone e compagnia bella. Attenzione ragazzi attenzione al tredicesimo posto io ci ho messo il Bologna ed il Bologna è tredicesimo. La cosa assurda ragazzi non è tanto aver azzeccato la posizione, la cosa assurda è che il Bologna che possiamo dire ha fatto perdere lo scudetto all'Inter e ovvio non è che l'Inter ha perso lo scudetto solo per la partita col Bologna. Sicuramente il Milan ha strameritato per altri motivi ma la cosa assurda è che tra tutte io ho azzeccato solo il Bologna che comunque ha rappresentato un crocevia incredibile e decisivo per l'assegnazione dello scudetto nelle ultime giornate. Quindi appena ho visto che ho azzeccato solo il Bologna avete presente le emoji con la testa che esplode? Mi esplosa per un attimo la testa ragazzi. Quindi ho azzeccato solo il Bologna quindi vi ho già spoilerato che da adesso in poi non azzeccherò più un cazzo però ci teneva a sottolineare questa roba qua del Bologna che mi ha intrippato il cervello non poco. Al dodicesimo posto ragazzi io ci ho messo il Torino che in realtà ha fatto meglio. Cioè tutte le squadre che ho messo hanno fatto tutte meglio tranne quelle che sono le trocesse praticamente mentre al dodicesimo posto c'è l'Udinese nella classifica reale. All'undicesima posizione ragazzi io ci ho messo il Cagliari. Quindi capite ragazzi che penso che il Cagliari sia la squadra che ho ciccato di più in assoluto perché il Genua è il retrocesso e il diciannovesimo io l'avevo messo al quindicesimo. Quindi ho sbagliato solo di quattro posizioni posizioni peraltro decisive visto che è andato in serie B ma il Cagliari ragazzi l'ho messo all'undicesimo posto e invece è finito al diciottesimo. Ben sette posizioni di distacco cioè sette su venti ragazzi sono tantissime quindi il Cagliari ragazzi è proprio ciccato clamorosamente ma d'altronde vi ripeto secondo me qualcuno avrà potuto metterlo dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo, sedice ma addirittura tra le tre che scendono ragazzi. Non lo so poi magari qualcuno invece ci ha visto lungo e chapeau in quel caso va bene decima posizione per la Samp avevo dato più fiducia alla Samp che invece ha conquistato la quindicesima posizione quindi cinque posizioni in meno rispetto alla mia prediction. Al decimo posto invece è finito il Torino nella realtà non ho posto non ho posto signori io ci ho messo il Sassuolo che invece è finito undicesimo più o meno quindi più o meno più o meno mentre nella realtà c'è finito il Verona che gli avevo dato avevo messo al quattordicesimo posto. Allora ottava ottava posizione ragazzi io ci ho messo la Fiorentina e invece abbastanza incredibilmente ci è finita l'Atalanta quindi l'Atalanta fuori completamente dalle coppe pensavo io che la Fiorentina non si qualificasse per le coppe nonostante nella prediction avessi sottolineato che la Fiorentina mi sembrava più squadra rispetto agli altri anni. Fatto sta che gliel'avevo messa fuori dalle coppe mentre al settimo posto avevo messo la Roma quindi Roma qualificata per il posto più debole chiamiamolo così dell'Europa mentre per la Confederation Cup mentre al settimo posto c'è finita effettivamente la Fiorentina. Al sesto posto io ci ho messo la Lazio nella prediction mentre c'è finita la Roma al quinto posto io ci ho messo l'Atalanta mentre in realtà c'è finita la Lazio e qui giusto per come dire visto che ho cannato tutto almeno fatemi sottolineare il fatto che avevo predictato la Lazio davanti alla Roma e così è stato. Io avevo predictato che termine tremendo sesto Lazio e settimo Roma invece quinto Lazio e sesto Roma almeno l'ordine un minimo ci ho azzeccato e un'altra cosa che ci ho azzeccato era l'Atalanta fuori dalla Champions League perché l'avevo già come dire l'avevo pensata fuori dalla Champions già due anni fa. Quest'anno o meglio lo scorso anno invece mi ha stupito quest'anno di nuovo l'ho messa fuori dalla Champions invece finita fuori addirittura dall'Europa c'è da dire che mi poteva aspettare un'Atalanta fuori dalla Champions ma addirittura fuori dall'Europa League fuori dalla Confederation sinceramente. Assolutamente non l'avevo neanche presa peraltro sto continuando a dire aspettare aspettare no niente niente come non detto come non detto e niente quindi ragazzi almeno Confederation League pensavo che ci potesse arrivare come non detto. Andiamo nella parte calda 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 della classifica al quarto posto io ci ho messo l'Inter mentre in realtà c'è finita la Juventus al terzo posto io ci ho messo il Milan mentre c'è finito il Napoli al secondo posto io ci ho messo il Napoli invece c'è finita l'Inter e al primo posto io ci ho messo la Juventus e in realtà c'è finito il Milan calmi calmi adesso voglio fare qualche valutazione perché devo assolutamente trovare la data in cui io ho caricato il video e magari sentiamo anche quello che dissi all'epoca per quanto riguarda le prime quattro posizioni. Allora il mio video l'ho caricato il 20 di agosto il 20 di agosto quindi Cristiano Ronaldo era ancora la Juventus qualche trattativa di mercato era ancora un po' così in stand by c'è da dire anche che avevano già giocato se non sbaglio le primissime partite di campionato no assolutamente sì assolutamente sì vediamo se riesco a recuperare le prime partite perché al 20 di agosto saranno stati tipo alla seconda giornata di campionato se non sbaglio seconda terza giornata di campionato scusate ragazzi se sto temporeggiando ma voglio sto andando manualmente con la rotellina alle prime giornate di campionato più che altro per dare un senso a quello che tra poco ascolteremo anche nel video ok eccomi qua sono arrivato do cazzo sto perso tutto e niente ho perso tutto come non detto ragazzi va bene facciamo una cosa ascoltiamo quello che dicevo nella prediction parlando delle prime quattro in classifica dico che io ho messo l'Atalanta quinta dando per scontato che Zapata resti quindi nonostante Zapata secondo me l'Atalanta quest'anno andrà fuori dalla Champions League certo però almeno fuori dalla Champions League lo specifica almeno quello un applauso me lo posso prendere grazie signori grazie grazie a quarto posto chi ci ha messo? ci ha messo il Milan? ci ha messo il Milan? no non ci ha messo il Milan ci ha messo l'Inter ragazzi quest'anno proprio basta essere diplomatici basta fare quelli scaramati io ho fatto una prediction di sensazioni bravo Brogna anche chiede alla Steve che quando ci sentiamo in privato per parlare di calcio io da quando l'Inter ha perso Conte chiedo se va via uno due big se il Milan fa un campionato se va via non se vanno via se va via un mercato decente magari il prossimo anno saremo sopra l'Inter oltre a Conte ragazzi velocizzo un po' il video metto perché mi sto annoiando a ascoltarlo da solo Conte è andato via a Kimi e oltre a Kimi è andato via a Lukaku e quindi mi sento di dire che l'Inter arriverà in Champions ma nella posizione numero 4 però non lo so non lo so e ci sono anche qui tanti incogniti Siamo l'Inzaghi farà bene magari sì magari sì però secondo me Conte ti dava veramente quella roba di più bravo Brogna Dunfris o Dunfris non ho mai capito come si chiama farà bene sicuramente sì ma Kimi era un'altra roba ma penso che tanti tifosi dell'Inter sono anche d'accordo cioè Dunfris lo voleva il Milan mi piace tutto non sto dicendo che non sia bravo però a Kimi poi era entrato anche nel cuore di Ok passiamo al Milan ragazzi Sensazione al terzo posto che ci mette il Milan ci mette il Milan ci mette il Milan no ci mette il Milan ci mette il Milan ci mette il Milan al terzo posto quindi mi immagino un Milan che a livello di classifica faccia meno bene rispetto allo scorso anno Ciccata clavurosamente Ma mi auguro penso e spero che la conquista della zona Champions sia meno traumatica dello scorso anno Almeno questo lui è stato Se permettete preferisco anche preferisco più arrivare terzo e avere la certezza matematica del terzo posto a tre giornate a due giornate dalla fine del campionato piuttosto che arrivare secondo e stare con l'ansia all'ultima giornata di ritrovarmi magari anche quinto come abbiamo rischiato lo scorso anno Mercato secondo me è abbastanza oculato quello del Milan pesano tanto le assenze di le decisioni neanche le decisioni l'aver perso Donnarum e Cevano a 0 euro Magna sempre interessante ma voglio dargli un campionato Giroud secondo me è l'attaccante che ci serviva anche se non mi fa impazzire però serviva un po' con il vice Ibra anche se forse vogliono farli giocare anche insieme non lo so Ragazzi incredibile quante puttanate si dicono Di quello un giocatore che faccia sportellate che spizzi la palla che tenga sulla squadra poi sembra anche preso bene sembra entrato bene Questo sì questo Ciccata l'ha preso benissimo sin dall'inizio A Milano a Milanello insomma quindi voglio essere fiducioso in questo senso e vi dico Milan terzo in classifica Non sarà facile e c'è da lottare però non vedo un Milan candidato allo Scudetto anche qui mi auguro di sbagliarmi A cazzo non me la ricordavo sta frase non vedo un Milan candidato allo Scudetto spero di sbagliarmi Io ragazzi ho iniziato a parlare di Scudetto dopo le prime 4-5 partite Dopo le prime 4-5 partite ragazzi ho visto questo Milan preso bene che ne ha vinte 7-8 di fila se non sbaglio Lì ho iniziato a crederci veramente da lì ho sempre detto a qualunque in qualunque video mi abbiano invitato In qualunque radio live eccetera ci credo ci credo ci credo ci credo Lo dissi anche su Sport Italia sia quando mi invitarono all'inizio dell'anno che ovviamente a campionato in corso Però effettivamente non ricordavo che a inizio anno avessi detto non vedo un Milan candidato allo Scudetto Clamorosamente secondo posto ragazzi ci metto il Napoli di Spalletti Anche se qui c'è un punto di domanda enorme nel senso che Sentiamo Il Napoli mi piace tanto ragazzi il Napoli ha veramente una bella squadra Sapete cos'è che non mi convince? L'unica vera incertezza Il rapporto Spalletti-De Laurentiis secondo me Ma che in realtà è andato anche bene In realtà è andato anche bene quindi non ci ho azzeccato Cioè l'unica volta in cui non hanno litigato De Laurentiis e Napoli Io avevo predictato un litigio incredibile Si deciderà veramente la sorte del Napoli Se De Laurentiis anche con Sarri litiga Volevo dire Spalletti non Sarri Litiga con la squadra, stipendi Andiamo alla Juventus Alla pena svenarsi quest'anno Primo posto per la Juventus Metto la Juventus nonostante paradossalmente abbia fatto Forse uno dei mercati per adesso Per adesso è più low cost della sua storia Così è stato anche dopo anzi Solo Locatelli, il giocatore ovviamente Ovviamente qui non sapeva ancora della gestione di Ronaldo ragazzi Tipo prestito di due anni, diritto di riscatto Fa cinque anni, pagamento dilazionato Ti arriva anche il materasso Emi, un flex a casa La situazione economica Le gags di Brogna è incredibile Comunque a piazzare un grande giocatore come Locatelli Nonostante l'arrivo di Locatelli Se non dovesse arrivare qualcun altro Il deficit tra la Juve rimane il centrocampo Nonostante ci sia... Quando dici che il centrocampo è un deficit Ci azzecchi sempre la Juventus ragazzi È incredibile Il centrocampo è quello che mi lascia un po' a desiderare Che mi lascia un po' perplesso Ma nonostante tutto la Juve è la rosa più forte Secondo me è la rosa più forte anche lo scorso anno Però è stata un'annata molto... Va bene ragazzi Quindi più o meno questo è il discorso Poi avessi saputo che la Juve dava via Ronaldo E prendere a Can Magari non la mettevo prima Ma sinceramente non l'avrei mai messa neanche quarta Piuttosto l'avrei messa seconda, terza Seconda, terza Mettendo in Napoli come favorito In lotta con lo Scudetto Con Milan, Inter e Juve Una roba così Mentre il campionato è stato veramente strano Anche sotto questo punto di vista Va bene ragazzi Il video finisce qui Ditemi cosa ne pensate Ditemi se vi ricordate la vostra di Prediction Perché sotto ai commenti di quel video Ci sono i vostri messaggi Quindi non fategli splendidi adesso Andate a rileggervi i vostri commenti ragazzi Va bene ragazzi Grazie mille Per adesso è tutto E ci vediamo domani alle ore 14 Ciao belli Ciao ciao